Benvenuti in questo nuovo video dei troll episodio 31 dopo che ragazzi la settimana scorsa non è che me l'avete detto in tanti in di più di riportare un troll a parte che con le barriere ma soprattutto ragazzi con che cosa e dove sulle aircraft e sulle bedwars ragazzi siamo qui sulle bedwars per fare il troll del secolo io sono pronto voi siete pronti fatemelo sapere con un bel mi piace magari superiamo i 4000 per questo troll sulle bedwars perché veramente regà c'è bordello c'è Bordello i troll sulle bedwars non ho mai fatti nessuna in realtà non lo so però vabbè era tanto per dire dai ragazzi ci vediamo quando siamo dentro vi lascio all'intro bella Allora regà eccoci in partita purtroppo non ho registrato il pezzo iniziale perché mi sono dimenticato Allora la gente ragazzi mi vede la gente mi vede sa che sono io Però mi diverte lo stesso troppo ragazzi vi giuro Adesso queste qua non possono più tornare indietro Questo qui è chiuso in me Ragazzi non ce la faccio Allora la tevala dell'ora mi vedono Però mi fa troppo ridere la gente chiusa dentro Prima purtroppo ho tagliato un pezzo troppo bello Però fa niente vabbè adesso qua chiudiamo Questi qua non possono più passare di qua Questa qui è destinata a stare qui all'infinito credo eh Per sempre nell'universo e oltre Vai passa come fai a passare Oddio Oddio regà sto male Adesso vado a chiamare qualcuno un po' d'oro Vado a chiamare Però questo non lo facciamo tornare a casa Questo è ancora dientro Non può più passare raga Io non ci voglio credere Questo si sta facendo tipo full del mondo Nell'universo Ragazzi io li sto riempiendo troppo Ma veramente troppo C'è un giallo C'è un giallo Ma il giallo dov'è? Il giallo chi è soprattutto? Ah sono io il giallo Ah ok C'hanno rotto il letto Oh ma cattivi Che merde C'hanno rotto il letto Questa ragazza ha deciso che deve stare in centro per sempre È bomberissima Non puoi fare altro Mi dispiace comunque Questa Questa non sa cosa vuole fare Ragazzi sto troppo Ciao lollino Purtroppo non ti posso salutarli Perché A parte che si sa che sto trollandola Adesso facciamo una cosa Piazziamo un letto Dai Aspetta aspetta No 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 Puoi andare Gli ho messo le cose invisibili Raga Qua io lo tolgo L'ho fatto cadere L'ho fatto cadere Guardate dove spona Non può più uscire Oddio raga Oddio raga Questa Sta ancora saltando Oddio questa Sta ancora saltando Oddio raga Sto male Facciamola uscire Sì sì dai puoi uscire bomberissima Puoi uscire Brava Brava Però ti tolgo tutto Non puoi più passare Di qua Si è trovata chiusa Oddio raga Oddio raga Mamma mia Son detto Oddio raga Io non ci voglio credere Cosa voglio fare Ma cosa che Ok Chiudiamo per bene Così non li vedi neanche più Ok Loro sono belli chiusi Ok Sono belli chiusi Abbiamo detto Sono chiusi Basta 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 E adesso sei dentro Mi dispiace È così la vita A volte è bene E a volte è male Alla fine Amaro Montenegro Già lena Oh l'ho killata Non so come ho fatto Grande Grandi bomber Potete andare via Potete andare via Che bello Guardarli da così Raga Ciao Ciao Aspetta Aspetta Vi faccio team Li faccio Ciao 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 Aspetta spacchiamoli qualcosa qua Facciamo così Facciamo così E buttiamoli la spada Li ho buttato la spada E li ho fatto uscire Raga li ho fatto uscire Li ho fatto uscire tutti No raga vi giuro Mi sto divertendo Come un bambino di 4 anni Quando prende una macchinina in mano E non lo so Vi giuro ragazzi Mi sto divertendo troppo No no bomber No No bomber No bomber Bomber Guarda qua No cosa ha combinato Ah ok Bene male che c'è sta cosa qua Eh sì Dove è Paolo 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 Qua Qua Paolo 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 Qua 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 Ti do un po' di roba Ti do un po' di roba Gold Ancora gold Ma poveretto Cosa fa un bambino Ozi ma cosa stai facendo Ma cosa Facciamo così Facciamo kill Ozi Ok Così non rompere più le palle Vieni qua bomber Ti dobbiamo dare un po' di roba Tieni questo qua Poi ti do questo 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 Poi ti do queste qua Facciamo così Così Ok bomber T'ho lasciato anche le frecce Ok bomber Grandissimo Grandissimo Ok Oggi sta tornando Imperterrito Più che ma Ti do anche a te una mela d'oro Ma perché può Perché lui può Perché Marci può dare le cose L'unico blocco Che ne avevamo tolto L'unico blocco Che ne avevamo tolto Ok questa qui è entrata Ma non uscirà più Oddio Oh zì Oh zì Ale Oh 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 zì Ale Oh oh Ok No bomber Non puoi cadere L'ho resuscitato E' morto E' morto E adesso è la fine Per te Mi sa che è la fine Grande Oggi Cos'è che stai facendo Non ti faccio più niente Bomber E' caduto da solo Ha fatto tutto da solo Oddio ragazzi Monkey Sta andando Facciamo una cosa Io mi alleo con lui Mi alleo con lui Raga Allora un momento Ci prendiamo una spada E ci alleiamo con lui Allora Game mod 0 Game mod 0 Questa partita Non finirà mai Io Non posso Morire Oh L'ho ammazzata Grandissimo Grandissimo Questo Marci Che è troppo forte E va a vincere pure La Bedwars Adesso Me lo sento Me lo sento Che Marci Vince La Bedwars Ok quello l'abbiamo preso Tu devi proprio morire Devi proprio morire Devi morire Eh è caduto È caduto Questa sera C'è delirio Al Maracana Ok quella è caduta Raga qua ce la stiamo giocando benissimo Ce la stiamo giocando benissimo Ce la stiamo giocando benissimo Raga È diventata una vera e propria Bedwars È diventata Ok quello è morto Quello è morto Minchia raga Sono un cecchino Sono diventato Ok Ok Devo tornare indietro Sì 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 Facciamo team bomb Facciamo team Grande Ozzy Grande Ma è debole Mi ha ucciso È finita la partita Non posso più trollare Oddio Oddio Ragazzi mi sono fatto uccidere ovviamente No in realtà Non lo so Se mi sono fatto uccidere No non mi sono fatto uccidere Mi hanno ucciso Perché sono debole Sono debole Sono debole Di cuore Vabbè raga Direi che per questo video è tutto 26 minuti Che trovo la gente così Ci vediamo nel prossimo video Da Marci è tutto Bella Ciao a tutti